La mozione mira a dare in affidamento tutti i terreni inutilizzati e non edificabili a scuole, associazioni, aziende, attività commerciali e anche a cittadini in modo tale che possano provvedere alla pulizia di queste aree rimaste senza manutenzione e avere dei benefici. Che tipo di benefici? A livello economico dovrebbe essere il Comune a pagare i volontari? No, diciamo che non avranno un beneficio monetario ma per le scuole e le associazioni si potrà dare queste aree per incendivare l'educazione alimentare e l'educazione ambientale mentre le aziende e le attività commerciali potrebbero avere un ritorno d'immagine apponendo in queste aree un proprio logo mentre i cittadini avranno uno sgravio della Tasi con un accordo fatto con il Comune. E quando adesso il Comune vi darà una risposta in merito all'interrogazione che l'ha presentato? Allora innanzitutto dovrà essere votata dal Consiglio Comunale e dopo questo l'amministrazione dovrà provvedere a censire tutte queste aree che sono inutilizzate e incolte e provvedere a fare un mando e fare in modo che tutti i cittadini, chi ha interesse, anche le aziende, ne facciano richiesta. Le richieste sono numerose le aree incolte? Sono tantissime e siccome gli operatori sono pochi nonostante un'accurata programmazione non riescono a ricoprire tutto il territorio gelese oltre questo non si possono fare assunzioni quindi per fare in modo che la nostra città possa diventare gradevole per noi e soprattutto per le persone che vengono da altre città dobbiamo anche noi collaborare. E poi queste aree da chi saranno controllate? La mia idea sarebbe quella di essere controllate dai consiglieri comunali. Cioè mensilmente ogni consigliere comunale potrà vigilare su queste aree perché il mio ragionamento è alquanto semplice in quanto si farà un elenco di tutte le aree che sono state affidate. Avendo questo elenco mensilmente i consiglieri comunali potranno vigilare affinché la manutenzione venga fatta.